Giovanni Boccaccio, Certaldo, 1313-1375, è stato il principale narratore della letteratura italiana delle origini. Nonché uno dei principali scrittori in prosa di tutta la nostra tradizione. Il suo nome è legato, in modo indissolubile, al suo capolavoro, il Decameron. La prima compiuta opera di novellistica della prosa trecentesca. La celebre raccolta di novelle ha rappresentato un elemento determinante per la tradizione letteraria italiana. In modo particolare, dopo che nel XVI secolo, Pietro Bembo elevò il suo stile a modello della prosa italiana. Scrittore versatile, egli amalgamò tendenze e generi letterari diversi. I suoi scritti comprendono infatti poemi epici, opere inversi e trattati di argomento erudito e didascalico. L'influenza delle opere di Boccaccio non si limitò al panorama culturale italiano, ma si estese al resto dell'Europa, esercitando influsso su autori come ad esempio Geoffrey Choser, figura chiave della letteratura inglese. Boccaccio, insieme a Dante Alighieri e Francesco Petrarca, fa parte delle cosiddette tre corone della letteratura italiana. È inoltre ricordato per essere uno dei precursori dell'umanesimo, del quale contribuì a gettare le basi presso la città di Firenze. In concomitanazza con l'attività del suo contemporaneo amico e maestro Petrarca. Fu anche colui che diede inizio alla critica e filologia dantesca. Boccaccio si dedicò infatti a ricopiare codici della Divina Commedia e fu anche un promotore dell'opera e della figura di Dante. Il Decameron di Giovanni Boccaccio è una raccolta di cento novelle raccontate da dieci giovani. Tre ragazzi e sette ragazze, nell'arco di dieci giornate. La parola deriva dal greco antico, deca. Dieci e. Merna, genitivo plurale di mera, ossia giorno. Letteralmente di dieci giorni, nel senso di opera di dieci giorni. Le novelle sono inserite in una cornice narrativa che prende spunto dall'epidemia di peste scoppiata a Firenze nel 1348, per sfuggire alla quale i dieci giovani decidono di soggiornare per due settimane in due residenze nel contado, dove trascorrono il tempo tra balli, canti e il racconto delle novelle. Ogni giornata ha un re, oppure una regina, eletta a turno tra i novellatori, che decide il tema delle novelle che dovranno essere raccontate. Mentre alla fine viene intonata una ballata e si sceglie il re della giornata seguente. Ogni giorno viene eletto uno dei giovani come re o regina, allo scopo di stabilire le attività da svolgere e fissare il tema delle novelle del giorno seguente, cui tutti si dovranno attenere. L'unico tra loro cui viene permesso di non attenersi al tema prescelto e di narrare sempre per ultimo è Dioneo, il più spregiudicato e ironico dei giovani che narrerà quasi sempre racconti di carattere erotico e licenzioso è il cosiddetto privilegio di Dioneo. La prima giornata è a tema libero, per l'impossibilità di stabilire l'argomento delle novelle. E così pure la nona. I dieci novellatori si succedono nelle varie giornate in un ordine sempre diverso e senza seguire uno schema preciso, anche se come detto Dioneo narra sempre per ultimo, tranne nella prima giornata, e il re barra regina narra sempre per penultimo. Ecco uno schema riassuntivo delle giornate, con l'indicazione delle novelle più significative per ciascuna di esse. I dieci giovani si trattengono fuori città per due settimane in tutto, da mercoledì a martedì, e si dedicano al racconto delle novelle tutti i giorni, tranne il venerdì, consacrato alla morte di Cristo, e il sabato, dedicato alla pulizia e all'igiene personale. Dunque le giornate complessive in cui si narrano le novelle sono dieci. Nella terza giornata domenica, i dieci si spostano in un'altra residenza rustica di uno di loro, mentre le novelle della settima giornata, giovedì, vengono narrate nella Valle delle Donne. Il libro si apre con un proemio in cui Boccaccio dedica l'opera alle donne. Quindi ogni giornata è preceduta da un'introduzione e chiusa da una conclusione, nella quale i giovani cantano una ballata e decidono il re barra regina del giorno seguente. L'introduzione alla prima giornata contiene il racconto della peste e l'incontro dei dieci giovani in chiesa, quella alla quarta contiene invece l'autodifesa dell'autore e la cosiddetta novella delle papere. Il libro è chiuso da una conclusione dell'autore, in cui c'è una nuova autodifesa per i temi scabrosi toccati, e un'accusa all'ipocrisia dei religiosi. Alla fine dell'opera i dieci novellatori tornano a Firenze, e non ci viene detto quale sarà poi il loro destino. Boccaccio affida la narrazione delle novelle a dieci personaggi di fantasia. Sette ragazze e tre ragazzi fiorentini appartenenti a nobili famiglie i cui nomi veri non vengono rivelati e che vengono perciò chiamati con nomi fittizi, alcuni dei quali parlanti e allusivi delle loro caratteristiche umane e psicologiche, in base a pseudoetimologie greche. Oppure che si rifanno a personaggi classici e letterari. Le sette ragazze, di età compresa fra 18 e 28 anni, vengono chiamate Pampinea, Filomena, Neifile, Fiammetta, Elissa, Lauretta ed Emilia, e fra loro Pampinea è detta essere la più grande e saggia, inoltre è colei che propone alle altre di lasciare Firenze e di spostarsi in campagna per sfuggire l'orribile spettacolo della peste. Fra le altre, Neifile è la più giovane e il suo nome vorrebbe dire nuova d'amore, inesperta di cose amorose, ed è lei a proporre sia di sospendere il racconto delle novelle il venerdì e il sabato, sia di trasferirsi nella nuova residenza la domenica successiva. Fiammetta ricorda nel nome la donna amata da Boccaccio, che ricorre in molte altre opere giovanili, specie nella Elegia, mentre Elissa ha il nome Fenicio di Didone e dunque rappresenta l'innamorata infelice. Emilia ha lo stesso nome della protagonista del Teseida. I tre giovani si chiamano invece Filostrato, Dioneo e Panfilo, di cui ci viene detto che sono innamorati di tre delle sette ragazze della brigata, senza tuttavia precisare chi siano. Il primo rappresenta l'amante infelice e infatti il suo nome vorrebbe dire vinto da amore, la stessa falsa etimologia greca del polmetto umonimo. Mentre Dioneo è il buffone della compagnia sempre pronto alla battuta mordace e spregiudicata, il nome allude a Dione, la mitica madre di Venere, e infatti ottiene da Filomena il privilegio di narrare sempre per ultimo e senza attenersi al tema stabilito. Inoltre le sue novelle saranno, come già detto, quasi sempre a sfondo erotico e con un'intonazione comica. Panfilo è invece il personaggio nobile e di alti sentimenti, tutto ripieno di amore, secondo l'etimologia del nome, che si rifà al protagonista maschile delle legge di Madonna Fiammetta e vuole essere l'alter ego dell'autore stesso. E infatti proporrà come tema dell'ultima giornata gli esempi di liberalità e munificenza, con novelle che avranno come protagonisti personaggi nobili e altonocati. I dieci novellatori formano una sorta di allegra brigata sull'esempio di quelle che specialmente a Firenze e in Toscana caratterizzavano l'ideale di vita cortese. Infatti la loro fuga dalla città appestata non ha soltanto come scopo quello di evitare il contagio, che infuria altrettanto violento nelle campagne, ma piuttosto quello di ricostituire quel tessuto sociale che la peste ha spazzato via attraverso un periodo di serena convivenza, basato su leggi e regole stabilite di comune accordo, dunque con una risposta terrena e laica allo spettacolo penoso e terribile della peste. La loro voce narrante racconta le novelle, anche se è evidente che ad essa si sovrappone spesso quella dell'autore e che, al di là dell'artificio letterario, questi personaggi non hanno autonomia narrativa, e tranne alcuni di loro, non possiedono una spiccata personalità, costituendo cioè solo il pretesto per il racconto delle novelle stesse.